In questa regione è sicuramente un miglioramento perché la collaborazione è sempre esistita ed esistiva. E' necessario fare un salto di qualità perché soprattutto in vista della riforma cartabbia di cui avete sentito dire che impone che il minore sia ascoltato, lo era anche prima ma adesso lo sottolinea, che dice come i servizi sociali e i servizi in genere devono contribuire al processo. Quindi è semplicemente una crescita doverosa perché i bambini adesso li facciamo maggiormente protagonisti del loro processo ma sono sempre bambini, dobbiamo costruire attorno a loro un sistema di giudizio e di aiuto a loro misura. E questo quindi in questo senso va all'accordo.